Prego sempre che i ragazzi, i figlioli studiano, perché devono imparare, devono sapere e trasmettere agli altri quello che hanno imparato loro, perché se sanno le cose non si possono trasmettere. Una grande gioia, una grande gioia e la voglio trasmettere a tutti i figlioli che studiano, che imparano, che devono sapere sulla vita tutto quello che c'è, perché è difficile anche per loro. De studiare, imparare, sapere e trasmettere agli altri quello che hanno imparato loro.